Quanti e quali sono gli accessori del bimbi? Se sei un abbonato, questo video lo stai vedendo in anteprima. Se invece non sei iscritto al canale, fallo adesso. Allora, oggi avremo, alla mia sinistra vi presenterò tutti gli accessori attualmente disponibili e in produzione, ovviamente, originali, i Forwerk. Alla mia destra, invece, troveremo tutti gli accessori che già vengono dati a corredo del bimbi TM6. E se siete interessati al bimbi TM6, nuovo ovviamente, contattatemi ai segreti del bimbi, chiocciolagmail.com. Quando acquistiamo il bimbi? Acquistiamo il bimbi completo di tutti gli accessori, o quasi. Nel senso che, chiaramente il bimbi è completo di suo, di boccale, coperchio, ovviamente, misurino, che viene chiamato misurino, ma perché serve anche per misurare, ma come tanti mi chiedono, è un tappo? Così mi fa anche da tappo, dal cestello, che può essere, può avere molteplici utilizzi, che può essere anche utilizzato all'interno del boccale, dalla spatola, ovviamente, dalla farfalla, questa serve per montare, bianchi d'uovo, panna montata, e dal famoso, diciamo, tanto richiesto anche Varoma, da sempre. Quindi, il bimbi da sempre è stato comprensivo di Varoma, che sarebbe la vaporiera, che viene utilizzata sempre mettendola sopra il coperchio, appoggiandola così ad incastro. Quindi, questi accessori, per avere tutto in modo compatto, senza disperderli dentro casa, li mettiamo in questa modalità, così come li sto impilando. Un accessorio in più, unico del TM6, è questo che si chiama Paraschizzi. Ogni volta che servirà, nella ricetta, verrà richiesto e anche disegnato. Anche questo lo potremmo mettere qui all'interno, in modo da avere tutto compreso. Ovviamente, se vi interessa uno di questi nuovi accessori che vi sto per presentare, potete scrivermi all'inirizzo mail, o scriverlo nei commenti, e magari vi spiegherò in privato come potreste riuscire ad averli. Partiamo subito con il bimbi sensor. Il bimbi sensor non è altro che un termometro da cucina, un ago da cucina, che viene utilizzato, l'avrete visto in tanti altri video del canale, viene utilizzato per conoscere la temperatura all'interno delle pane, ciambelloni, arrossi, prodotti da forno che vengono, diciamo, una volta preparati col bimbi, in cottura, vanno in cottura all'interno del forno. Grazie al bimbi sensor, questa è la sua stazione di ricarica, quindi non è un semplice contenitore, ma è proprio una stazione di ricarica, io ho la possibilità di conoscere la temperatura all'interno della pietanza che va cotta all'interno del forno. E questa temperatura riesco a visualizzarla sia dal cooking center del cellulare, applicazione specifica, oppure dal monitor del bimbi, dove ho uno degli speciali superpoteri che mi faranno leggere esattamente la temperatura interna di quello che sto preparando. Il richiestissimo da tanti è venuto fuori già da un po', è il coprilame pela patate. Questo accessorio non è altro che un disco che viene applicato sopra le lame, dentro il boccale, così come vi ho fatto vedere in diversi altri video, viene posizionato a solo un verso, quindi è molto semplice, viene posizionato sopra il pirulino delle lame, in questa modalità e viene utilizzato per pelare patate, carote, anche in questo caso ci sono diverse ricette già stabilite riguardo l'utilizzo della patate e anche in questo caso abbiamo la funzione specifica pelare che ci indica esattamente come procedere a seconda di quello che sto andando a pelare. Come non conoscere l'affettatutto? Uno degli accessori venuti fuori da poco che può essere integrato anche per chi come cliente TM6 ha già il bindi e che serve per affettare. Anche questo in diversi altri video abbiamo avuto modo di conoscerlo e capire come va utilizzato. Quindi, nello specifico, l'affettatutto viene utilizzato mettendo prima il supporto, l'affettatutto e il contenitore all'interno del boccale sappiamo già che questo ci permette di mantenere pulito il boccale per eventuali altre preparazioni. Il disco che viene utilizzato in un senso e in un altro a seconda del taglio di quello che voglio affettare, anche qui abbiamo due superpoteri che servono per l'utilizzo dell'affettatutto che è appunto il grattugiare e l'affettare. Quindi a seconda delle modalità io ruoto in un senso e in un altro il disco, come avete visto in tanti altri video del canale. Se ancora non l'avete fatto andate pure a cercare le ricette con l'affettatutto. Viene poi utilizzato il coperchio che va a incastro così e lo spingitore che servirà per portare giù, mettendo all'interno di questo foro quello che vogliamo affettare e spingendo giù con lo spingitore. L'evoluzione dell'affettatutto si chiama spiralizer. Ecco, lo spiralizer viene utilizzato necessariamente con l'affettatutto. Quindi una informazione importante da dare a chi ancora non lo sa è che se non ho l'affettatutto, bimbi, non ha senso avere lo spiralizer perché viene utilizzato necessariamente con questo accessorio. Quindi piccolo refresh dell'affettatutto. Viene posizionato col supporto all'affettatutto e anziché andare a mettere il disco proprio dell'affettatutto posso mettere lo spiralizer. Spiralizer è un nuovissimo accessorio che abbiamo visto in tanti altri video che può dare dei tagli diversi a spirale o a spaghetto a seconda della rotella che utilizzo. Questo qui viene utilizzato quindi con l'affettatutto al posto del disco proprio dell'affettatutto. L'incastro è molto simile a quello dell'affettatutto che abbiamo visto e la differenza sta nel fatto che ha uno spingitore apposito. Quindi non è il classico spingitore dell'affettatutto ma è uno spingitore appropriato, diverso perché servirà ad incastrare quello che vogliamo diciamo spiralizzare mettendolo all'interno del foro. Ultimo, ma non ultimo ma sicuramente ancora poco conosciuto parliamo del cuoci uova utilizzato anche con il Varoma. Quindi chiudiamo in bellezza con il cuoci uova. Questo è un accessorio totalmente in silicone che viene utilizzato per cuocere le uova a occhio di bue grazie al vaporiera Alvaroma. Quindi nel momento in cui volessi utilizzare delle singole uova qui ce ne entrano sei ho la possibilità di mettere questo accessorio così in questa modalità sopra il vassoio del Varoma ovviamente coprire con il coperchio senza la copertura del coperchio non si cuocerebbe ovviamente perché non si formerebbe la temperatura giusta per la cottura dell'uovo e questo mi dà modo di ottenere le uova porzionate e cotte a vapore ma a occhio di bue in questa modalità. Chiaramente sappiamo che con il bimbi abbiamo il cuoci uova la modalità cuoci uova che ci permette di cuocere l'uovo all'interno del boccale tipo l'uovo alla cocco e sodo o diversi livelli di cottura ma l'uovo intero con il guscio. Questa invece è una modalità per cuocere l'uovo già diciamo aperto e cotto direttamente a occhio di bue. Ecco il motivo di questo video adesso ve lo svelo. Tante persone mi chiedono di altri accessori che in realtà non esistono nel senso che non sono forverche non sono originali del bimbi quindi giusto per chiarire il fatto che quelli che vi ho mestrato oggi sono attualmente gli unici accessori originali garantiti forverche. tutti gli altri accessori liberissimi di acquistarli e comprarli ma non sono assolutamente certificati e l'azienda non garantisce. Quelli che vi ho mostrato oggi sono assolutamente eccezionali e soprattutto garantiti. Scrivetemi nei commenti se questo video vi è stato utile e vi ricordo che se avete necessità di bimbi potete scrivermi per email o anche nei commenti o in privato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.